Oggi, scusate, mi devo sfogare. Voglio che vadano in inferno! Ciao a tutti, minnasa konnichiwa, bentornati sul mio canale Elicottero! In questo video parlo delle mie brutte esperienze in Italia, che non ne posso più. Oggi, scusate, mi devo sfogare. Praticamente in Italia qualche volta mi è capitato che mi hanno derubato, perché io sono una persona perfetta, ideale per i borseggiatori, perché io sono una donna, perché io sono un'asiatica e spesso perché io ho la valigia, quindi sembro turista. Quindi, proprio perfetta! Tutti mi attaccano, ogni volta che vado in giro, tutti vogliono derubarmi di qualcosa. Una volta in Sicilia, proprio mi hanno shippato. Mi può far ridere perché sembrava una scena di un film. Io stavo camminando per strada e io avevo tracolla e dentro la borsetta avevo nuovo cellulare e le chiavi dell'albergo. Per fortuna niente documento, niente soldi, però così è arrivato un motorino e poi mi hanno shippato e per fortuna questa tracolla, cioè, l'hanno tagliato col coltello, secondo me, però comunque mi ha lasciato un po' il segno qua. Sono stata un po' ferita. Un'altra volta a Milano, quando ho preso la metro, in quel giorno, siccome io avevo gli ospiti giapponesi, quindi agli ospiti avevo detto, dovete stare attenti perché a Milano ci sono tanti borseggiatori alla metro. Cioè, a loro non hanno derubato niente, invece a me sì! Quella volta, io comunque ero molto attenta, avevo la borsa sempre così, chiusa, però quando sono scesa dal metro, nella borsa non c'era più il portafoglio. E' una cosa strana è che loro hanno chiuso addirittura, gentilmente, la mia borsa. Quindi la mia borsa era chiusa, ma dentro il portafoglio era sparito. Che professionale! Cioè, sono proprio bravissimi! In Italia, purtroppo, ci sono queste persone cattive, quindi ognuno deve stare attento e basta. E siccome mi è capitato una volta in Sicilia e una volta a Milano, dopo quella volta, per fortuna, non mi è più capitato. Un'ultima volta a Milano era forse otto anni fa, ma due o tre settimane fa ero a Milano a filmare il video con un simpaticissimo ragazzo Tomo giapponese e io quel giorno portafoglio, intanto porto... portacarte, come si dice? Io porto solo questo e metto nella tasca e poi copro col cappotto lungo fino a piedi. Nessuno può inserire la mano nella tasca dei jeans. Anche cellulare metto sempre nella tasca dei jeans, però se io devo andare a filmare video, comunque io ho le attrezzature come il gimbal e anche i microfoni, queste cose, quindi li metto nello zaino. E quando voglio filmare video, tiro fuori queste cose, invece nello zaino metto solo le cose tipo asciugamano, fazzoletti, non c'è niente di oggetto prezioso, però comunque tengo davanti lo zaino, no? Quindi io qua lo zaino, poi il gimbal, poi eccetera eccetera, io sono così. E quando ho filmato sotto la galleria Vittorio Emanuele 2, mi dava un po' fastidio tenere lo zaino davanti perché c'era tanta gente, poi comunque non c'è niente di prezioso dentro lo zaino, allora solo per cinque minuti l'ho tenuto dietro perché lo zaino si tiene dietro, non davanti normalmente. Quindi l'ho tenuto così e poi filmato dentro, abbiamo camminato cinque minuti, poi una signora mi dice Il tuo zaino è aperto. Ma come? Va bene perché non c'è niente da rubare, però comunque basta che io tenga lo zaino dietro, dopo cinque minuti già qualcuno me lo apre. Questa cosa veramente mi dà fastidio da morire. Io, non so, voglio mettere un mucchio di fazzoletti sporchi nella borsa, così qualcuno inserisce o apre il mio zaino e vede cose sono schivezze. Voglio provare così un giorno. L'altro giorno ero a Venezia, sempre per filmare video con un altro ragazzo giapponese. Anche in quel giorno avevo lo zaino, però ero più tranquilla rispetto a quando ero a Milano perché mi sentivo un po' più a casa perché è vicino e poi ci vado spesso, qui conosco abbastanza e non c'è così folla di gente. Ma comunque dentro lo zaino se tengo dietro, non metto niente le cose preziose. E stavo filmando, camminando, lo zaino è dietro e poi ho sentito qualcosa, non so, si è mosso qualcosa dietro o ho sentito qualcosa sulla schiena. Quindi guardo dietro, c'era una coppia, una donna e un uomo. Questa signora mi ha fatto chiaramente come se lei non stesse facendo niente. ce l'ha fatto proprio così. Aveva una mappa, carta, così nascondendo, provava a aprire il mio zaino. C'è anche lì. Io voglio essere popolare alle persone normali, non tra i borseggiatori. Non mi capita più che mi rubano proprio il portafoglio perché sto attentissima. Però è brutto che ogni volta che esco qualcuno tocca le mie cose e cercano di rubare qualcosa. Cioè mi da fastidio. Invece agli uomini succede meno e anche alle persone non asiatiche in Italia succede meno. E poi comunque otto anni fa quando mi è capitato che mi hanno rubato poi dovevo fare la denuncia, anche quella perdita di tempo e serve quel documento non perché c'è la speranza che magari mi ritorna il mio portafoglio, ma solo perché mi serve per rifare il documento. Per esempio anche domani io devo andare a Firenze per fare video con i giapponesi e sono un po' stressata. Cioè non vedo l'ora di incontrare questi giapponesi e fare video, sarà divertente, però sono un po' anche stressata che mi devo organizzare tutto perfettamente perché non mi possono derubare. Devo stare attentissima sempre, quello sì, però dopo un po' sono molto stanca perché devo stare attenta più di persone normale. Io quando ho visto in Italia per la prima volta che le persone che chiedono i soldi per strada ero scioccata perché questa cosa in Giappone non l'avevo mai visto. Però alla fine queste persone salutano, ti chiedono i soldi direttamente. Non è che stanno facendo una cosa ingiusta o cattiva, solo sta chiedendo i soldi, no? Oppure alcune persone cercano di offrire qualche azione e quindi in cambio vogliono avere i soldi. Però questo ha senso. Invece i borseggiatori che rubano e basta, veramente sono cattivi e fanno la cosa ingiusta. Voglio che vadano in inferno! Quindi dico che è molto peccato che in Italia ci sono le città meravigliose da visitare e mi piace fare viaggio in Italia, però c'è sempre questa cosa che io devo stare attentissima, non sono mai rilassata. Cioè in Italia mi dà sensazione che tu devi stare attento e basta. Se ti fregano, è colpa tua. Anche perché, ho visto qualche volta, anche se un borseggiatore sta rubando chiaramente, gli altri non dicono niente. Cioè le persone che hanno visto questa cosa lo dicono dopo, non durante, non fermano. Questa cosa è veramente peccato soprattutto per turisti stranieri, se succede una cosa così, è rovinato il suo viaggio, anche se l'Italia è un paese bellissimo. Per migliorare come si può fare ognuno deve stare attento. Quello sì, sempre. Ma per fermare i borseggiatori, le polizie devono lavorare di più? O non so, colpa di chi? Io spero tanto che questo lato negativo dell'Italia diminuisce. Scusate oggi mi sono sfogata, però veramente non ne potevo più perché ultimamente, come vi ho detto, esco spesso e ogni volta che esco loro cercano di toccare le mie cose, quindi mi dà fastidio. Ok, grazie di avermi ascoltato fino alla fine. Ah, questa è la nuova mia maglietta di Matane. Il disegno è stato fatto da un mangaka giapponese, si chiama Asuka Ikuni, se volete date un'occhiata al link sotto. Allora ci vediamo alla prossima! Spero che domani andrà tutto bene a Firenze. Voglio mangiare bene e basta, voglio divertirmi e basta. Ci vediamo alla prossima! Matane, matane, matane! Ciao a tutti! Bye-bye!